Buongiorno a tutte, come state? Sono al lavoro, doveva concludersi un qualcosa nello scorso weekend, invece ho richiesto ancora qualche giorno, tanto per farmi perdere la pazienza che non ho più. Di cosa parliamo oggi? Vi ricordate la mia rubrica, mi racconto? Mi è arrivata praticamente da una certa Laura, che si firma Laura via mail, perché potete scrivermi via mail se volete che magari tratto alcuni argomenti qui sul canale, se volete che vi rispondo, e mi ha posto una domanda. Io normalmente non amo parlare di questi pensieri miei personali su YouTube, perché so che mi trovo, come dire, una parte di persone che la pensano come me, ovviamente, e magari così mi rendo nemica quella parte di persone che giustamente non la pensa come me, perché il pensiero è soggettivo, e quindi la mia opinione, il mio pensiero, non deve essere assolutamente accettato da nessuno, non deve essere accettato da chi non la pensa come me, deve essere magari, no, deve essere sbagliato, può essere ascoltato, può essere ascoltato come mi ascolto anche a pareri differenti e discordanti dai miei, ma non voglio che possa creare comunque dei problemi dal punto di vista proprio di star bene insieme, nel senso che abbiamo una bella community, non so come puoi chiamarla, siamo un bel po' di persone che per me sono tante, anche se mi dicono che ho un canale, mi hanno detto ridicolo perché pochi iscritti, quello che è, però io i miei iscritti li adoro, nel senso sono fortunata, ripeto, sono persone fantastiche. Non vorrei, esprimendo una mia opinione particolare, rovinare, magari urtare qualcuno, rovinare i rapporti bellissimi a livello appunto di scambio, di commenti che ho con le mie elette, e i miei eletti. Questa persona però mi ha scritto cosa ne pensi di tutto l'approccio che c'è stato riguardo al covid, io ho fatto il covid, ve lo sapete, se andate a vedere qualche video dietro ci sono io che tiro giù, un parola a non finire perché ero stufa del fatto che non avevo nulla, ma sono dovuta stare praticamente un mese passa, chiusa in quattro mura perché non potevo praticamente uscire, perché risultavo ancora positiva per il tampone, nonostante non avesse nulla. Però nel senso ho avuto il covid, ho avuto la fortuna di farlo in maniera molto, 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 molto lieve come la maggior parte degli italiani e non solo degli italiani. Parliamo di patologie, io ho una patologia quindi nel senso che anche lì penso che qualcuno che mi segue ha capito eppure nonostante la patologia ho fatto il covid in maniera molto, molto serena senza nessun tipo di complicazione. Quindi penso che sia stato così per tantissime persone, meno male, ci sono anche persone che hanno fatto il covid e manco se ne sono accorte e asintomatici. Lei mi ha chiesto cosa ne pensi del fatto che mascherina o non mascherina, vaccini, mica vaccini, richiami su di giù e adesso già come Nostradamus non hanno capito un cazzo alla fine del covid, perché è la verità che non hanno capito un cazzo del covid in tutto questo tempo, perché prima le guanti, poi le mascherine, poi via i guanti, adesso le mascherine si possono, non ho all'aperto, però ho chiuso, ho bisogno di tenerle, adesso le togliamo dall'aperto, facciamo i vaccini, però i vaccinati devono andare in giro lo stesso con la mascherina, non possono stare un metro di distante, nonostante siano vaccinati e quindi in quanto vaccinati non hanno il virus, non si ammalano, dobbiamo vaccinarci tutti e tra poco lo metto in obbligatorio che mi dico, ma se uno non vuole vaccinarsi e tu ti sei vaccinato per scelta, io non mi sono vaccinata, se io prendo qualsiasi cosa, covid, non te l'attacco perché tu sei vaccinato, quindi secondo me dovrebbe rimanere una libera scelta, però vabbè, mille e mille di queste cose e invece come Nostradamus, nonostante in tutti questi due anni non abbiano capito un cazzo effettivamente, perché comunque il vaccino è stato, per elaborare dei vaccini ci vogliono anni di sperimentazione, invece ci hanno usato come cavie, io questo ne sono convinta, non sto facendo complottismo, però ci hanno usato come cavie per accelerare i tempi, quindi non hanno comunque potuto capire tanto nei giro di due anni o forse non hanno neanche voluto perché erano troppo impegnati a gestire il discorso dei pattini, il monopattino, dei banchi a rotelle, queste cose erano fondamentali per il covid, è una cosa fondamentale, senza questi saremmo morti tutti, comunque nel senso adesso si parla già perché ovviamente nonostante i vaccinati, nonostante i vaccini e tutto che hanno dato per sicuri, per certi, per tutto, si parla già del fatto della prossima ondata con la nuova variante che sicuramente, sicuramente, ma sicuramente, ma veramente sicuramente non sarà fermata dai vaccini che hanno proposto fino adesso, quindi nel senso, la presa per me, questa è la mia opinione, mi dispiace, non voglio offendere a nessuno, però per me è una grandissima presa per il culo, proprio come viene, come è stata gestita la questione covid, non sto parlando del covid in sé, anche se ho un'opinione anche su quello, ma qui non la voglio esprimere, però nel senso che per come hanno gestito la cosa e la stanno gestendo, io sono inorridita, questo sì, non sto, ripeto, mi dispiace per le vittime, mi dispiace per chi è morto e mi dispiace, non sto negando nulla, sto parlando male della gestione a livello, poi parlo dell'Italia, perché io in questo momento non mi trovo in Italia, però parlo dell'Italia perché è dove devo entrare tra qualche giorno, ma starci poco probabilmente, molto poco, però è dove sono nata perché sono italiana, quindi non posso parlare di altre nazioni, nel senso, quindi è inutile che poi mi dicono, ma anche le altre nazioni, ma tu che cazzo te ne frega delle altre nazioni, stiamo parlando dell'Italia, parliamo dell'Italia, allora se le altre nazioni prendono e ci dicono bisogna impiccarsi tutti, buttarsi giù dal quarto piano, allora l'Italia deve fare come le altre nazioni, perché anche le altre nazioni non hanno fatto così, non vuol dire niente, ne eravamo i primi a essere i primi a chiuderci in casa, saremo i primi ad uscirne, non ne siamo usciti, c'è uscita prima la Cina, nel senso, sono usciti tutti, poi vabbè, il ritorno ovviamente che già, ripeto, non hanno capito un cazzo in due anni, però sicuramente sanno che il ritorno con una nuova variante sicuramente ci prende, di questo sono sicuri, quindi magari, non so, adotteranno altri patini a rotelle, magari, non lo so, oltre a farci magari altri vaccini, quindi alla fine non so cosa ci inietteranno, oltre magari eventuali chip per controllarci ancora più di quanto ci controllano, di sicuro ci sono stati morti nella popolazione, ce ne dispiace tantissimo ed è vero, non ci sono stati morti tra i politici italiani, di questo me ne dispiace molto meno, però è una cosa anche molto strana, no? Che questo Covid abbia ucciso ed è vero, purtroppo è vero, e per questo mi piange il cuore un sacco di gente, cittadini, ma tra i vari anziani o con patologie, o anche giovani, della politica italiana noi sappiamo che abbiamo la politica più popolosa di tutto il mondo, nel senso che la quantità di partiti e di gente del menga che abbiamo noi non c'era nessuna nazione, no? Tra protavorse, borse puttanazze, politici, non ho neanche voglia di nominare, pensiamo ai numeri dei partiti, è tutto, quindi siamo, è tutto l'entourage che gira intorno al partito, abbiamo anche i comici, quindi nel senso di tutto abbiamo, no? E di loro non è morto neanche uno di Covid. Io questa è una domanda che faccio io a voi, ma come mai di loro non è morto nessuno di Covid? Proprio nessuno, ma come mai? Poi tra l'altro secondo me non sono anche vaccinati, hanno fatto fare al popolo, l'hanno fatto fare da cavi al popolo, adesso siccome hanno bisogno di continuare a schiacciarci in una morsa di terrore, devono comunque dare già per certo che la prossima variante, che è la variante che pare sia già arrivata in certe parti d'Europa, per forza, di sicuro, non c'è idea che non è no, non è neanche un forza, è così arriverà anche in Italia, presumibilmente immagino Lombardia, Piemonte, Sardegna, poi dopo tutte le altre incominceranno a rispezzarci le gambe, forse perché vogliono regalarci alla Cina e questo è il modo migliore, forse perché, non lo so, forse vogliono diventare padroni di tutto quello che abbiamo perché a un certo punto la gente non potrà più neanche pagarsi un mutuo, quindi tutto sarà in mano a loro, ai grandi, alle banche, che tanto già un po' lo è, e ci rovineranno ancora di più, nulla togliendo al fatto che, ripeto, io per il Covid, per la gente che è morta, tantissimo rispetto e mi dispiace, però ripeto, la domanda è come mai questo Covid non ha fatto crepare neanche un politico dei nostri, forse un, o avevano già un vaccino loro se lo sono fatti, e quindi loro si sono parati il culo e noi ci danno i vaccini che è merda, perché poi si arriva un'altra variante, quindi ci stanno come sempre prendendo in giro, prendendo in giro, sta facendo di peggio, non è più una presa per il culo, questo ci sta facendo morire, però agli italiani sta bene questa cosa, ci preoccupiamo più per il calcio che per queste cose qua, sono meno fondamentali, mi spiace di dire, sono italiana e non sto parlando male degli italiani, sono dati di fatto, quindi mi fa incazzare questo discorso, non temo a parlarne qui, perché non vorrei che magari Youtube mi censurasse, per una libera espressione lecita di opinioni, oppure non vorrei urtare chi non la pensa come me, perché nel mondo c'è la libertà di qualsiasi cosa, infatti giù potete mettermi i commenti, seppur vi chiedo per favore, se non la pensate come me, per favore che siano commenti comunque educati, vi chiedo questo, perché non dobbiamo fare la solita guerra tra poveri, quello che ci stanno facendo fare, compottisti contro non compottisti, nord contro sud, sani contro chi ha preso il covid, vaccinati contro non vaccinati, imprenditori contro operai, impiegati contro, cioè quello che ci stanno facendo fare da anni, che gli lasciamo fare e continuano a farlo, non dobbiamo farlo, quindi non litighiamo tra noi, se avete un'opinione diversa, per favore scrivetemela, perché è lecito, ed è anche, si può sempre imparare dagli altri, io imparo dagli altri, però in modo educato, perché questo chiedo, perché non voglio scaldare gli animi, ripeto, io faccio questa premessa, perché ci sono per esempio argomenti che non posso trattare assolutamente nei Youtube, né quando sono in compagnia, né con nessuno, tipo quello della politica, perché mi scaldo, mi scaldo parecchio e purtroppo in quell'ambito, in quel discorso lì, magari reagisco in maniera verbale, non consona e quindi non mi piace, nel senso una cosa che non mi piace, perdo un pochino le staffe, quindi vi chiedo di essere migliori di me, se io ho eventualmente esposto a questa cosa, chiedo scusa se ho offeso qualcuno, ma è il mio pensiero, non volevo offendere nessuno, i politici, le politici, tutti, non sto facendo, ho ovviamente una mia linea politica, nel senso che non intendo esprimere qui, ho una mia, diciamo, status politico, parte politica, no? Però non assolutamente di questo non voglio parlarne, assolutamente, però secondo me che fanno schifo oggi come oggi, proprio schifo, non avrei usato un altro termine, ma è molto, su Youtube non me lo fanno passare, nord, centro, destra, sì, perdon, sud, non dico che non ho sbagliato, volevo dire non nord-sud a livello di cittadini, volevo dire destra, sinistra, centro, parlavo di politici, quindi ho sbagliato a parlare, nord-sud l'adoro, io adoro il nord e il sud, per me l'Italia è stupenda, meravigliosa, tutta, tutta, peccato che è gestita di merda, e peccato che glielo lasciamo fare, però questo è, mi ci metto dentro anch'io, probabilmente siamo a un punto di non ritorno, ma da un bel pezzo, però ripeto che ci stanno, continuo a dire ripeto, condannando a morte ormai, non è la sinistra, non è la destra, non è il centro e gli altri no, cioè sono tutti, perché poi fingono, hanno utilizzato anche questo discorso del Covid per fare politica, per far vedere uno contro l'altro, per rincoglionirci, ci sono riusciti, perché tanti sono rincoglioniti, tanti che non vogliono vedere le cose come sono, dei cittadini intendo dire, perché chi non vuole ragionare un attimino, rendersi conto che ci hanno, non sto negando il Covid, sto facendo veramente un processo al modo in cui, nel nord, nel sud, nel centro, in tutta Italia, la politica non ha saputo, e parlo di, ripeto, non me ne frega niente, perché per me sono tutti d'accordo, destra, sinistra, centro, fianco, e perdonatemi in termini a sti cazzi, sono tutti dei farabutti, che hanno praticamente solo contribuito, e stanno contribuendo a farci affossare, mentre loro continuano a vivere con stipendi stratosferici, continuano, chissà come mai, a non morire mai di Covid, ma neanche se viene la peste, e per questo, ripeto, loro il vaccino buono, loro ce l'avevano, se l'avevano già fatto, e perché non è morto neanche uno, e questo è molto, molto strano, perché andate, ripeto, a rivedere quanti sono i politici, i portavolosi e puttanazze allegate, e tutto l'entourage di ogni partito, e quanti partiti ci sono in Italia, possibile che non è morto nessuno, almeno una buona parte sarebbe dovuta crepare, non è un augurio, però è un dato di fatto, quindi questa cosa vuol dire che secondo me, o è tutto un discorso, oppure cosa molto probabile, avevano già il vaccino, loro sono fatti quello buono, e noi ci hanno fatto, oltre che fallire, perdere il lavoro, perdere tutto, ci fanno anche continuare a crepare, perché tanto che gli frega, allora non ha il senso, quindi c'è l'Inps che ha guadagnato un sacco di soldi, poi con il Covid, comunque, questa è la mia opinione, ripeto, se la pensate diversamente da me, fate benissimo scrivermi qualsiasi cosa sotto, mi chiedo solo di farlo educatamente, chiedo già scusa, se ho espresso questa opinione in maniera, non dedicata, non opportuna, non volevo offendere nessuno, sicuramente è un periodo in cui sono, quest'ultimo periodo sono parecchio nervosetta, quindi magari questo nervosismo, lo sto anche buttando fuori, in questo argomento che non c'entra nulla, però, vi chiedo scusa, se magari mi sono espressa in un certo modo, ma è l'unico modo in cui riesco a esprimere, questo tipo di concetto, vi mando un bacione grandissimo, e spero di, avervi nonostante questo mio video, continuare ad avervi dalla mia, perché siete fantastiche, un bacione grandissimo, alla prossima!